E' partita oggi Blue Blitz, un'iniziativa importante per scoprire il mare di Ischia ma anche per tenerlo pulito. Un'iniziativa estremamente lodevole da parte dell'area marina protetta e delle amministrazioni. Un progetto volto alla salvaguardia dell'ambiente e all'integrazione dei pescatori in un sistema capillare per quanto riguarda la pulizia dei nostri mari. Un progetto che all'inizio sponsorizzai fortemente, lo portai ad Ischia in una riunione nella sala del Consiglio Comunale con l'area marina protetta e la capitaneria dei pescatori. Finalmente prende piede un'attività di salvaguardia reale sperando che poi venga portata avanti prossimamente. Perfetti, si parte per dare un segnale anche positivo ai più giovani, a tutto il territorio? Assolutamente sì, queste sono iniziative lodevoli ed educative, specialmente per quanto riguarda le nuove generazioni. Il mare ha bisogno di sostegno da parte di tutti quanti. Spero che questi tipi di attività non iniziano e finiscano in questi momenti ma vengono introdotte praticamente come educazione nelle scuole isolane. Quanto riguarda il Regno di Nettuno, torna agli enti comunali un fatto positivo o negativo? È un fatto positivo ma ovviamente adesso bisogna stare con gli occhi ben aperti perché il Ministero ce l'ha riaffidata ma bisogna avere il coraggio di fare delle scelte positive per il mare perché questo è un ente che è praticamente atto alla salvaguardia del mare. Non bisogna pensare alla politica, bisogna pensare alla salvaguardia. Possiamo dire che il primo comune unico riguarda il mare? Diciamo che anche il Cisi è uno dei comuni unici, chiamiamolo così, però è la sinergia da parte dei comuni insieme a Procida per trovare le soluzioni alla salvaguardia dell'ambiente marino e come ho sempre detto la salvaguardia di noi stessi abitanti di quest'isola è come cosa primaria il mare. Grazie. 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 Grazie.